Ciao ragazzi, panino completamente italiano fatto da Alessandro Alessandro, allora questo è il pane, vacci a mettere sopra un po' di funghetti fai tutto a mano, dai con le mani, l'abbiamo scolato dall'olio perché chiaramente vogliamo una cosettina saporita ma leggera, tutti i funghetti calabresi adesso mi ci metto un pochettino di zucchine calabresi, eccole qua, perfetto metti sopra e un pomodorino, quello rosso, vai sì, pomodorino, bene, a questo punto metti sopra, ok, tutto a posto, una bella fetta di lonza, vai, prendila l'ha fettato, vai, sopra, il coperchietto, vai, assaggia il primo panino, assaggia il primo panino con la lonza, ripeto ragazzi, lonza, funghetti, melanzane, dice com'è Alessandro? mi ha mai visto tutto, hai mai visto un panino così buono? dì la verità però, mi ha mai visto, estremo ragazzi, eh di, di, che sensazioni provi? che sai, che c'hai in bocca? funghetto, questo è il funghetto, dici del funghetto se ti piace buono, buonissimo funghetto eccezionale ragazzi, eh e il peperoncino com'è, questo qua, eh ora un po' dai un mozzicchetto a parte il pomodorino calabrese non ci vuole buono assaggia scattate mmm è buono è buono, eh è buono eccezionale facciamo un altro la ricetta, eh funghetti si poi un po' di più, eh un po' di concentrazione per fare da cosa per fare da cosa buona si, funghetti poi poi melanzane un po' più di quelle si perché almeno quella è un po' più melanzane un po' più zucchinoso si perché sono zucchine ma l'ho sbagliato si assaggia poi oh, non ci metti la lonza? la lonza, certo eh bravo si è crudo questo vai metti il coperchio tutto per te madonna ragazzi guardate guardate che panino guardate che panino guardate che panino ha sei anni fa sti panini guardate che spettacolo buono eh buono eh gnam 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 dici devi fare un canino solo di panini mmm che si chiama? mille panini eh mille panini mmm buono noi facciamo tante ricette e gli aspettatori ci diranno se 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 lo preparano e diranno se è buono sì o no mmm buono eh eh su questo canale ci mettiamo anche col viso eh mhm ma ve lo dovete fare dovete mettere pollici in giù se non vi è piaciuto il panino se vi è piaciuto mettete pollici in su mhm ora se è benvenuta fame pollici in su se è fame non è venuta fame pollici in giù no se se è cattivo pollici in giù è cattivo ma non è cattivo buono mmm me lo vado sempre rispondere eh dai spettatori pollici in giù 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 pollici in giù